ciao a tutti a tutti buona giornata agenda di venerdì 3 febbraio san biagio parto con un intervento al convegno degli angiologi che sono quelli che si occupano delle nostre vene e poi dopo ho un incontro privato con una madre superiore per le 11 30 sono a vimodrone per il mercato con gli amici del pd e poi ho altri due incontri privati con due sacerdoti che mi parleranno di cosa si occupano anche dal punto di vista sociale alle 16 sono a ro per un incontro con le acli a parlare di formazione e soprattutto di lavoro per i giovani a seguire alle ore 18 sono al circolo pd di via quarenghi 8 a milano con altri candidati e facciamo una rassegna di tutte le nostre proposte per regione lombardia finisco se sono ancora vivo ma alle 21 a san donato milanese con il pd di tutta quella zona a parlare proprio in realtà delle specifiche proposte che abbiamo per tagliare liste d'attesa e per risolvere il problema dei medici che mancano e ce la farò buona giornata a tutti alla prossima